E voltiamo pagina per parlare di un altro spettacolo e dalle molteplici sfumature che sarà in scena dall'8 al 10 marzo presso il teatro Serra di Napoli. Sto parlando di Raccontami Shakespeare. Diamo quindi il benvenuto ad Andrea Cioffi, attore e regista. Buongiorno. Buongiorno. E Sara Guardascione, attrice in scena. Buongiorno. Benvenuti a Mattina Live. Andrea, il vostro spettacolo parla di due autori straordinari che si trasformano poi nei loro scritti appunto del più famoso diciamo drammaturgo inglese in 20 racconti per ragazzi, stravolgendoli anche e riscrivendoli in forma narrativa. Quindi dove li condurrà questa sfida nel raccontare Shakespeare? Beh, raccontiamo letteralmente Shakespeare pur senza avere Shakespeare in scena. Non è un, come si può credere dal titolo, non è uno spettacolo su appunto William Shakespeare ma su Charles e Mary Lamb che sono questi due fratelli che nel 1807 pubblicarono racconti da Shakespeare, Tales from Shakespeare che tuttora è ancora pubblicato ed edito, cioè uno dei più importanti libri per ragazzi. Loro fondano in qualche modo la letteratura per ragazzi e l'altra peculiarità editoriale dei due è che Mary Lamb sarà tra le prime donne a poter pubblicare con il proprio nome. Quindi è appunto una grande conquista per l'epoca, diventa quindi poi il pretesto, la storia di questi due autori per parlare di tutte tematiche che ancora oggi sono valide, no? Che è il ruolo del femminile nella cultura e nella società, che è la difficoltà dei diversi di integrarsi, perché poi loro hanno una storia particolarissima, poi magari la lascio raccontare, e su quanto sia importante anche dare una scossa all'educazione in qualche modo, cioè non soltanto limitarsi a leggi e comportamenti, no? Rigide, ma anche provare a avvicinarsi all'animo umano, che è forse più importante. Certo, è fondamentale, stiamo vedendo anche delle bellissime immagini di voi in scena. Sara, un uomo ed una donna che vivono in una società che non le riconosce, quindi anche lì è margina in qualche modo, quindi dalla melanconia all'affermazione della propria libertà, perché la scrittura diventa l'arma più potente di riscatto? Beh, allora, intanto appunto la tua domanda si inserisce proprio nel discorso che faceva Andrea, no? Questi due scrittori sono geniali, ma contemporaneamente sono emarginati perché sono definiti pazzi. Charles Lamb soffre di quella che viene definita melanconia, così lo troviamo appunto nei documenti che attestano l'esistenza di questi due personaggi e in realtà oggi la chiameremmo forse depressione. Certo. Per questo motivo lui passa quasi un anno della sua vita chiuso in manicomio. Mary Lamb a sua volta in realtà commette un gesto disperato e folle nella sua vita, non lo spoilerò, magari chi conosce i due fratelli Lamb lo sa già, ma appunto anche lei rischia di finire in manicomio e Charles in qualche modo la salva, decide di occuparsi di lei, di diventare il suo tutore e quindi di prendersi cura della sorella senza che lei possa appunto avere il suo stesso destino, cioè finire in quel luogo orribile che era un manicomio. e i due si salvano attraverso la scrittura. La scrittura diventa l'arma per esplorare qualcosa di diverso, accendere la fantasia e per questo si legano appunto sia alla scrittura che in particolare a Shakespeare e quindi al teatro. Questo in qualche modo può salvare loro e quindi può salvare le persone che andranno a leggere questi testi, i ragazzi, perché è proprio ai ragazzi che sono destinati i loro racconti. Andrea, entrambi quindi sono affetti da un malessere interiore che non viene interpretato in qualche modo all'epoca perché gli strumenti dell'epoca non conoscitivi non permettevano di interpretarlo. In che modo anche la loro creatività poi viene scambiata per follia, diciamolo così? Beh, innanzitutto loro fanno, appunto, loro vengono dei problemi che oggi diagnosticheremo, come depressione, come disturbo bipolare, cioè sono cose che oggi vengono affrontate in maniera molto diversa. All'epoca erano soltanto pazzi e strani, quindi venivano tenuti alla lontana dal resto della società. Loro però, in tutta la vita, utilizzeranno la scrittura appunto non soltanto per emanciparsi da questo pregiudizio, ma anche per creare una loro stessa comunità. Noi quello che sappiamo di Charles e di Mary Lamb, dai libri di storia, che oltre ai racconti per ragazzi poi hanno scritto anche dei saggi critici ironici, che avevano creato un salotto letterario, avevano avuto modo di conoscere tanti altri editori e quindi di trasformare questa loro stravaganza anche in un modus operandi pronto a sovvertire. Loro hanno fatto una rivoluzione, no? Anche se in piccolo. Anticipano di poco l'epoca di Edmund Kinn, no? Che sarà reso noto dalla sua interpretazione di Shakespeare come un'interpretazione passionale, molto meno impumatata, molto meno impolverata. Loro dicono questo. Cioè loro dicono che forse è opportuno staccarsi da dei canoni troppo rigidi, che forse anche grazie alla loro diversità riescono a identificare, no? E quindi il loro essere dei malati di mente, per l'epoca, diventa la risorsa per creare una nuova visione del mondo, no? Quindi ecco che si sovverte il... Si sovverte tutto. Sara, la rappresentazione che avete voluto dare è un racconto gotico, ma in che modo trovano anche ampio spazio il divertimento, la giocosità, la comicità? Allora, in che modo? Cito in realtà Mary Lamb, quando... appunto in realtà cito Andrea Soffi, che è l'autore, ma... Quando dice, dopo che Charles Lamb le ha detto il motivo per cui ha escluso Mercuzio all'interno di Romeo e Giulietta, dicendo che è un personaggio inutile e sopravvalutato, muore subito, che ce lo mettiamo a fare? E Mary Lamb risponde, ma fa ridere, e la gente ha bisogno di ridere. Come puoi pretendere che si commuovano alla fine se non li sorprendi con Mercuzio all'inizio, no? Ed è esattamente lo stesso meccanismo che in realtà Andrea mette in atto nei suoi spettacoli un po' in generale, cioè prima, come dire, corrompe il pubblico con ironia, con... Cattro Serra di Napoli con Raccontami Shakespeare. Io vi ringrazio per essere stati qui stamattina in Mattina Live in nostra compagnia, quindi ringraziamo ancora una volta Andrea Soffi, attore e regista, e Sara Guardascione, attrice. In bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie ancora. Pubblicità a tra pochissimo con Mattina Live.